Un saluto dal Tg della Mobilità, da oggi sono in corso i lavori di Acea su via Ardiatina, nel tratto compreso tra via di Torpagnotta e il centro di Elbivio, vicino al Gra. I lavori termineranno in 30 giorni, cioè il 5 agosto, si svolgeranno infatti in turni di 24 ore, anche in orario notturno, per comprimere al minimo i disagi alla cittadinanza. Su via Ardiatina è prevista quindi la chiusura di via Torpagnotta e via centro del Elbivio in entrambe le direzioni. Al fine di limitare i disagi è stato deciso di istituire il divieto di transito sul tale tratto fatta eccezione per il traffico locale. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, invece, la linea di bus 702 è deviata. La deviazione su via di Casteldileva, via della Cecchignola e via Torpagnotta, la linea non effettua 15 fermate su via Ardiatina. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione.